E' Samuele Segoni il parlamentare rettino più produttivo, almeno secondo la ricerca di Open Police. L'indice di produttività è calcolato attribuendo a ciascun parlamentare un valore numerico per ogni atto presentato in Parlamento di cui è stato relatore. Per ogni atto si prende in considerazione la tipologia, il consenso ricevuto, l'iter e la partecipazione dei parlamentari ai lavori. Il primo rettino dunque è Samuele Segoni, ex Movimento 5 Stelle, oggi nel gruppo misto con un indice di produttività di 334,28 e 57esimo a livello nazionale e quarto in Toscana dove primeggia per produttività David Ermini del Partito Democratico. Dopo Segoni nella lista degli rettini più produttivi c'è Chiara Gagnarli del Movimento 5 Stelle con un indice di produttività di 204,51. La Gagnarli è decima in Toscana, in quattordicesima posizione Marco Baldassarre del gruppo misto con 183,83. Al ventunesimo posto Maurizio Bianconi 106,01. All'ultimo posto degli rettini troviamo Marco Donati del Partito Democratico con un indice di produttività di 72,22 seguito da Maria Elena Boschi. Tra i senatori invece Donella Mattesini si piazza al quattordicesimo posto in Toscana con un indice di produttività di 119,72. La senatrice del Partito Democratico si trova al 183 posto tra i senatori più produttivi.